Allora ragazzi, buonasera e benvenuti in un nuovo Dev Oran dove oggi parleremo del Nord America precisamente ma vedremo in questi nuovi aggiornamenti che verranno su Nord America, Sud America, Centro America e probabilmente anche Australia e diciamo questo Dev Diari nuovo che viene parlerà di queste zone e andremo a vedere la prima che è proprio appunto il Nord America Allora, salve a tutti! Ci sono stati molti Dev Diari sul sud-est asiatico che parlava su tutto il nuovo contenuto che verrà aggiunto Io, Grogy, non so se si legge così il suo nome, adesso farò lo stesso e inizierò a fare nuovi Dev Diari sul Nord America Mi è sempre piaciuto giocare con nazioni complicate e di conseguenza in Nord America è sempre stato tra i posti che mi piacevano di più Combattere l'invasione europea e creare una nazione tua era quella che mi piaceva di più Diciamo però che l'ultimo update che abbiamo rilasciato che cambia maggiormente quest'area era Conquest on Paradise che è uscito nel 2014, per chi non lo sa, costa un cazzo ed è peggior di essi che sia mai uscito, lo dico già adesso E le meccaniche aggiungevano non sono imbecchiate abbastanza bene, no, appunto, come dicevo io Infatti se dovessimo riassumere come è il gameplay in Nord America sarebbe tipo Aspetta, aspetta di migrare, aspetta gli europei, tu aspetti, aspetti ed aspetti sempre Infatti ci ho provato anche io a giocare in America varie volte ed è stato il game più noiosi della mia vita E con le palle che mi sono scese giù nel pantalone Quindi abbiamo deciso di rifare delle fondamenta a tutte le meccaniche che riguardavano il Nord America Che vennero rilasciate con il DLC Conquest of Paradise Ovviamente per avere questa nuova Fiatur dovrai comprare, se non lo hai già, il DLC Conquest of Paradise E fin qui ci siamo ragazzi, molto semplice la cosa e molto carina Effettivamente il Nord America, come sempre detto, e sempre l'ho ripetuto Perché anche nei torni è stato chiesto addirittura di aggiungere nazioni americane È un dito in culo L'unica zona che era giocabile per il secondo mio punto di vista Era una parte del Sud America e il Centro America Stop, stop Il resto era ingiocabile Per il mio punto di vista Poi ognuno può pensarla come vuole Magari il single player è divertente, ma il multiplayer no Allora, continuiamo con questo dev diari Nei prossimi dev diari vedrete tante interfacce in sviluppo Quindi seguitevi bene Essendo che le mie abilità grafiche non sono tra le migliori E fin qui ci siamo E bra, è scarso a fare la grafica Abbiamo molto di cui parlare Quindi iniziamo subito spiegandovi come ho modificato le tribù migratorie Una cosa che mi dava fastidio Era come noi mostravamo la migrazione delle tribù in gioco Che è rompipalle e mi fa schifo Detto già questo I vari popoli del Nord America non migravano dalle montagne A palchi o alle montagne del Grand Canyon in dieci anni Loro avevano un concetto di terra Che hanno già usato E ci migravano stagionalmente Però consideravano queste terre come le terre loro A tutti gli effetti Noi non possiamo rappresentare le migrazioni stagionali su Europa Universalist 4 Ma abbiamo fatto comunque delle modifiche per migliorare il gameplay delle tribù Allora, capitoliamo questa parte Sì, effettivamente le tribù americane o i nativi nord america Migravano tra vari territori per il cambio di stagione Come dice lui Non si può rappresentare questa migrazione stagionale su Europa Universalist 4 Effettivamente non posso sapere per quale motivo Magari sta scritto dopo Andiamo a leggere Tra poco Però dalla mappa a quello che vediamo Il mio punto di vista Solo guardando l'immagine Quindi senza leggere Quindi esprimo il mio punto di vista Immagino che adesso magari fa vedere il contorno Di dove effettivamente questa nazione migra E magari sa Migrerà in un certo punto Oh, può essere che mi sbaglio Andiamo a leggere Senza Senza Girarci intorno Andiamo a vedere effettivamente di cosa si tratta Questa mappa non è definita della 1.3 Molte nuove province e nazioni verranno aggiunte Prima di tutto ci sta il possesso delle tribù sulle terre Questa è una specie di semiproprietà della provincia Appartiene alla tribù Ma le sue risorse non stanno venendo sfruttate Sfruttate Le altre tribù possono andare a venire da queste province E possono essere colonizzate dagli europei Quindi più o meno da come avevo inteso e capito io Un motivo per cui ci sono poche tag nell'America Est È perché si potrebbe rischiare di bloccare la colonizzazione degli europei Ma questo Con questa modifica potremmo aggiungere altre tag Oh, interessante Questo è anche interessante Una provincia può diventare tua terra tribale Al costo di 100 punti amministrativi Inoltre ti richiede che tu ci abbia già migrato Adesso Oddio Una provincia può diventare tua terra tribale Quindi praticamente tu spendi 100 punti amministrativi Per rendere diciamo quella Quella provincia Tua Quella terra tribale tua Cioè è fighissima sta cosa Però vediamo poi come funzionerà Adesso il cold down per le migrazioni Non esiste più per migrare Dovrai pagare 50 punti militari Avrai bisogno di migrare Se no le risorse della provincia in cui sei attualmente finiranno Ah, questa è anche una cosa molto carina Adesso Il fatto che devi spendere 50 punti militari per migrare Non è proprio malissimo Avrai bisogno di migrare Se no le risorse della provincia in cui sei attualmente finiranno Quindi possono finire le risorse Oh mio dio Questa cosa Oh, bellissimo Puoi migrare in qualsiasi provincia Che non è di proprietà diretta di nessuno E neanche nelle terre tribali Ok, questo È una cosa che più o meno Già facevano effettivamente Cioè, oddio Facevano in modo strano e diverso Ma più o meno siamo lì Forse hanno aggiunto qualche meccanica In particolare Per ogni provincia in cui tu emigri Il costo di emigrare ancora raddoppierà 50, 100, 200, 400 eccetera Quindi non sarai più limitato dal tempo Ma dei tuoi punti monachici Ah, questa cosa è bellissima Cioè, adesso praticamente Se emigri Dovrai usare, diciamo, i punti Praticamente Usando i punti E pian piano aumenta il costo Ogni volta che lo fai Questa è una cosa molto carina Però ha anche Un bel dito in culo Perché dovrai stare attento nelle emigrazioni Perché dovreste emigrare allora? Mentre la tua tribù reside in una provincia La devastazione aumenterà Fino a raggiungere il 100% Oltre a questo Ogni tribù ha un proprio dev della tribù Che aumenterà un pochino ogni mese Fino a che la provincia della tribù Non raggiungerà il 100% Cioè, fratelli Questa è un po' Un po' storta come cosa Perché effettivamente Sembra più un nerf Per queste nazioni Che bosto Cioè, praticamente Per migliorarle Cioè, oddio Hanno aggiunto più Nativi americani Quindi ci sta come cosa Però il problema è un po' Abbastanza difficile Una cosa Una cosa che mi interessa Una provincia può diventare La tua terra tribale A costo di 100 punti amministrativi Inoltre ti richiede Che tu ci abbia già migrato Questa è una cosa carina Quindi comunque è come se fosse Colonizzare Cioè, più o meno Colonizzare Cioè, rendi tua Ma non proprio tua Cioè, un po' Particolare come cosa Si deve vedere la meccanica Perché non so se effettivamente Questa frase intende Che una provincia Quando ci migri E poi la Fai che è tua Quindi si fa il contorno Non so se gli altri Possono entrarci Effettivamente O meno Questa è una cosa che Forse vedremo un po' Più avanti Perché qua è spiegato Un po' Troppo sintetizzato Dalla parte della paradox Invece l'altro Comunque spiegava Molte più cose Magari gli altri Possono entrarci Probabilmente possono entrarci Magari l'ho letto E sto sviando Anche questa cosa E il problema è che Comunque Queste meccaniche Si devono vedere In gioco Più che altro Secondo il mio punto di vista Poi andiamo a vedere Il resto Vabbè qui c'è una mappa Qui immagino che hanno fatto Anche dei governi Per Per i stati americani Andiamo a leggere Quello che sta scritto Abbiamo anche rifatto In modo in cui funziona La riforma di queste nazioni E ci abbiamo integrato Il sistema del governo Governamento Vabbè riforma di governo Praticamente Ne parleremo meglio In futuro Dev diari Ok quindi Vedremo questa parte Nei prossimi dev diari In modo fatto bene Ma vi posso dire Che il primo step Sarà di far diventare La tua tribù sedentaria E farla Espandere E crescere Il modo In cui Tu guadagni I punti Per riformare i governi È ancora qualcosa A cui stiamo pensando Ci sta Effettivamente Non possono farlo Come gli europei O gli altri paesi Che stavano in quelle zone Le tribù avranno Nuovi casus belli Per combattere Tra di loro Il casus belli Della pace migratore È stato rifatto Per considerare anche Le tue terre tribali Ci sta anche Un nuovo casus belli Per le tribù sedentari Che ti farà picchiare Le altre tribù vicino a te Questa è una cosa carina Perché effettivamente Lì non facevano mai un cazzo Ce ne si espandevano Veramente poco E anche un casus belli Per combattere Contro gli europei E le loro colonie Questa è interessante Questa è molto interessante Questa parte mi piace È interessante Per oggi è tutto Parleremo di altro Ricordando le tribù Del nord america La prossima settimana Ok quindi Questo dev diario È stato molto Molto breve Penso che sia finito qui Andiamo a leggere L'ultimo pezzo Allora Extra info Molto probabilmente Gli eurocasi Non so se leggono Si leggono così Si divideranno E si potranno riunire Usando le nuove meccaniche Delle federazioni Development delle tribù Va dove migri Tu insieme alle costruzioni Che avevi costruito Prima di emigrare Un po' complessa Si vede che Effettivamente io Ci ho giocato Relativamente poco In questa zona Quindi Vi posso assicurare Tranquillamente Che anche io Sarei poco esperto Di quest'area Quindi Non so al 101% Come funziona Però per quel poco Che ci ho giocato A me non piaceva Magari questo sistema nuovo Può funzionare Però ancora Non mi ha detto Nulla di speciale Oddio magari Per adesso È qualcosa di interessante Ci sono nuove meccaniche Probabilmente Aspetteremo gli altri Devdiari per capire Di cosa si tratta Principalmente Ma aspettiamo Fino adesso Penso che sia Il Devdiari Che mi sia interessato Di meno Dal mio punto di vista Però ragazzi Oggi è tutto Per Europa Universe S4 Il Devdiari Del Nord America Nulla di speciale Per il mio punto di vista Ma vedremo in futuro Di cosa si tratta Allora Gli altri possono entrare Cioè non ti costa Non costa punti militari Eh ho capito Jumper Però Come posso farti capire Uno che gioca In America Ma usciamo un attimo Tema Visto che è finito il video La cosa che Non mi piace È che comunque Non è che ti hanno dato Magari la possibilità Tra virgolette Magari di dare la possibilità Di fare qualcosa di più Cioè se alla fine Un paese migratorio Che migra Avanti e indietro A cazzo di cane Dopo un po' Devi abbandonare Un territorio Perché finiscono Le risorse Praticamente Non so se puoi colonizzare Non so se effettivamente Puoi fare azioni Diverse Uno che gioca in America È sceo Ecco Cioè capisci Chi gioca in America Ha dei problemi mentali Mettiamola così Perché si puoi mettere Tutte le cose che vuoi Punti Quando diventi sedentario Ecco appunto Quando diventi sedentario Ok quindi tu hai Un percorso da fare Devi fare un percorso Immagino che devi fare Questo percorso Per diventare sedentario Il problema è che Effettivamente Secondo me è più giocabile Per quanto riguarda Il fatto che usi punti Perché magari puoi prendere Quando acquisti le province E tu migrini in quello Non paghi più punti militari Come appunto stai dicendo tu Che ha 1,50 100 200 400 Fino A un tot di costo Il problema sta In un'altra cosa Che comunque è difficile Cioè Secondo me da giocare Sempre in single player Non c'è quella cosa Di dire Pu Multiplayer Torneo Giocare anche in America Secondo me è una pazzia Allora Io comunque ho letto Erso vero nel titolo Ci sarà Per il 10 per l'Italia Ah Giacomino Giacomino Non ti preoccupare C'è una sorpresa Per questa cosa E mo ci arriviamo Ma intanto ragazzi Passiamo un attimo a Stellaris Mi metti un attimo a Stellaris Se effettivamente così Magari attiriamo gente di Stellaris E roba Già abbiamo detto Quello che dovevamo dire Beh che dire Mo vediamo Io aspetto i prossimi Perché questo è quello Che mi è interessante Sono stato sincero L'ho detto anche per il video L'ho detto anche per il video